Agevolare la richiesta di microcredito garantito da parte delle imprese che hanno subito danni a causa dell'eccezionale e violenta ondata di maltempo che lo scorso 27 luglio ha colpito il territorio provinciale aretino. Di questo si occuperà lo sportello straordinario di Fidi Toscana aperto ad Arezzo. Ci siamo resi conto che davvero questo passaggio meteorologico così estremo ha prodotto danni ingenti soprattutto alle imprese, a quelle agricole, a quelle artigiane e quindi penso che la misura del microcredito alla quale poi si associa anche la parte agricola siano misure assolutamente importanti che credo saranno raccolte con grande favore. Lo sportello dunque fornerà informazioni ed assistenza sugli interventi della regione a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione. I prodotti a disposizione sono due, sono la garanzia per le imprese che hanno avuto eventi di calamità, che sono state colpite le eventi di calamità e il finanziamento, quello più importante, di importo di microcredito fino a 20.000 euro a tasso zero. Lo sportello sarà aperto al pubblico nei giorni 6, 8, 22 e 29 agosto con orario 10.13, 14.16. Questa mattina infine gli assessori regionali hanno partecipato assieme ai tecnici ad un nuovo sopralluogo in alcune delle località più colpite dal maltempo, Olmo e Pieve a Quarto. Abbiamo visto che effettivamente i danni sono ingenti e questo ci riconduce a pensare assieme ai comuni, insieme al Genio Civile, assieme al Consorzio di Bonifica a delle misure che siano integrate e coordinate. Oggi però siamo ad intervenire e cercare di dare il sollievo possibile per chi ha avuto dei danni. Ieri abbiamo fatto una delibera che ha stanziato il primo milione e 900 mila euro per quanto riguarda gli interventi di somma urgenza che sono stati segnalati, dopodiché è stata richiesta la calamità nazionale. Se questa sarà riconosciuta ci sarà la possibilità anche di interventi a sostegno delle imprese, a sostegno dei privati che in questo momento non sono previsti perché i primi interventi sono quelli della somma urgenza e sono quelli dell'intervento sulle categorie produttive con il microcredito da 20 mila euro che è stato appena illustrato e con fondi di garanzia. C'è anche un intervento sulle aziende agricole, c'è una delibera che costituisce un fondo di garanzia con un importo minimo di 25 mila euro e massimo di 160 mila euro che è disponibile per queste aziende come garanzie da prestare presso le banche per accesso al credito e quindi per una liquidità immediata.